Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la nuova stampante LCD che ci ha mandato la Elego per la nostra collaborazione, che ovviamente li ringrazio di cuore, visto che è una collaborazione che va avanti ormai da un anno, e ci hanno dato tantissime possibilità e li ringrazio veramente immensamente, è sempre un piacere e un grandissimo onore poter collaborare con loro anche perché sono fra i più grandi produttori di stampanti 3D al mondo. E oggi vi voglio presentare una delle ultime uscite come stampanti 3D desktop, ovviamente stampante a resina, che è la Mars 3. Se vi ricordate sul canale già avevo portato la Mars 2 Pro, potete trovarla nei video scorsi, e la Saturn, che era quella che poi vi faccio vedere nel corso del video, che ha un piano di lavoro veramente bello grande, che consente di fare non soltanto miniature o parti più grandi, divise, spezzettate, ma anche comunque lavori belli grossi, tipo scenari, case e roba anche in scala 28-30 mm. E oggi vi presento, appunto, come dicevo, l'ultima uscita, che è la Mars 3, la Wash Machine, da questa parte, che serve, prodotto scollegato, non hanno fatto uno insieme, che serve per lavare tutte quante le vostre creazioni in resina, lavare ovviamente e sgrassare a dovere, e da quest'altra parte la Cure Machine, che invece serve per il trattamento raggi ultravioletti, per il finale della pulizia, delle miniature e tutto, ma poi soprattutto per indurire la resina, perché lo sapete che con i raggi ultravioletti la resina si indurisce, soprattutto l'ABS, se non rischiate di fare una pedina o comunque un lavoro che vi scivola di mano, vi cade in terra e va in mille pezzi. Comunque ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Come vi dicevo, questi tre oggetti, mandati, sponsorizzati da Elego, con cui abbiamo una collaborazione da ormai un anno, sono gli ultimi prodotti che ci hanno fornito. E solo di uno spettacolo assurdo, perché intanto, vedete, rispetto alle vecchie stampanti, fino a qualche mese fa, ad esempio alla Mars 2 e alla Mars 2 Pro, è cambiata un pochino, come vedete, la scocca, o per meglio dire, il coperchietto l'hanno fatto un pochino più stondato, che è classico, io guardo laggiù perché c'ho la Saturn, poi ve la faccio vedere, c'hanno sempre il coperchietto sopra, quadrato. Quindi comunque questa volta qui l'hanno fatto un pochino più stondato, bellino, ricorda un po' anche una specie di sirena sulle macchine della polizia, anni 70, non lo so, c'ho queste visioni un po' strane, però è veramente carino, e tutta quanta la componentistica poi fondamentalmente è sempre quella della macchina precedente, la vaschetta e il piano di lavoro, la vaschetta è sempre la stessa, in plastica che si rimuove con le vitine e potete tirare fuori, l'unica cosa, a differenza della Mars 2 Pro, non ha il canaletto di scolo, quello non ce l'ha, e anche a differenza della Saturn, di solito ci fanno sempre un canaletto di scolo per aiutarti a levare la resina necessario, rimetterla dentro la bottiglietta, questa non ce l'ha, vabbè, una cavolata, basta un attimino starci attenti. Il piano di lavoro è un po' più grande, leggermente più largo, e anche a livello di altezza sulla 6Z è leggermente più grande della Mars 2 Pro, quindi comunque inizia ad avere anche, per una stampante desktop e piccolina così, inizia ad avere anche un certo e indiscreto piano di lavoro, e un'altra cosa, figato, vabbè, lo schermo ovviamente LCD touchscreen, ovviamente a colore anche bene da morire, e poi finalmente le attacchi le hanno messe davanti, quindi il tasto dell'accensione e anche la porticina USB per mettere la chiavetta per le vostre stampe. È di una facilità assurda per calibrarla poi ora nel corso del video, nel frattempo vi monto un po' di spezzoni che abbiamo fatto, delle varie attrezzature, intanto ve le vado a descrivere, e è molto facile da regolare, sempre, il solito, levato tutto, fogliettino di carta in fondo, stringere le viti, quando lo sentite che è bello attaccato e il fogliettino non si muove, la macchina è calibrata, ma ormai, praticamente, modello dopo modello dopo modello, queste macchine sono diventate user friendly al massimo livello, cioè veramente, ormai, ora, a parte che le fa tutta mia moglie questa cosa, e ci ha preso un bel po' di esperienza dopo un anno che ci lavoriamo con le stampanti 3D, ma stanno diventando, ragazzi, la prossima che uscirà, appiccerà in pulsante e si calibrerà da sola, ne sono veramente convinto. E da quest'altra parte, vedete qui dentro che c'è anche ora l'alcol isopropilico, qua giù all'interno, e questa è la macchina che nel frattempo vi faccio vedere nel video per il lavaggio, quindi la wash machine, che, se vi ricordate, avevamo un vecchio modello di un'altra compagnia che faceva wash and cure tutto insieme direttamente. Questa invece è una macchina, l'hanno divisa a 6 istanti, e qua dentro voi, semplicemente, accendendo il pulsante e regolando il timer, andate a lavare le vostre creazioni, e lavandole le andate a sgrassare, quindi, consiglio spensierato, fate più di un passaggio, non fate due minuti, fatene anche sei, in tre passaggi, cioè, poi lo vedete, quando alla fin fine la miniatura è bella pulita e si sgrassa anche dopo, coraggio tra i violetti, potete smettere di lavarla. O, se comprate resine che si lavano in acqua, basta un lavaggio veloce, l'avete già lavata. Comunque, fa tutto lei, quindi non dovete andare nel bagno, una cosa nanta, ce la mettete dentro col cestellino, e lava tutto lei. Fatto questa cosa qui, passate direttamente alla cure machine, che questa è indispensabile, ma veramente indispensabile, perché dovete fargli il trattamento a raggio travioletti, che prima noi facevamo con un fornellino per lunghe, da donna, che va bene lo stesso, non è un problema, però comunque questa te lo fa molto meglio, soprattutto non devi stare lì con un fornellino basso, a tenerlo alto, magari a cercare di tenerci la miniatura sotto, o comunque la tua creazione, lì ce la mettete direttamente, e poi in più c'ha la pedanina, che lo fa girare, quindi comunque il trattamento glielo fa a 360 gradi, perché glielo fa tutto intorno, e anche lì fate un passaggio, non ne fate troppi, perché sono raggio travioletti, a son di cuocervelo, ve lo spacca poi dopo, quindi fate un passaggio, la guardate, la toccate, com'è ancora un po' grassa, ancora un po' unta, gli fate un altro giro, e deve diventare bella robusta, diventare troppo robusta, vorrebbe dire fare crepe, che poi gli vengono crepe addosso, e la spaccate, soprattutto per molto più facile lavori piccolini, quindi scala 20, 28, 30 mm, ma a volte anche meno, che sono scale da giochi da tavola, ad esempio, tabletop game, e quindi in quel caso, è facile rompere un pezzettino, fine fine, magari come un ago, poco di più, poi, questo qui, che vedete qui davanti, è un bel trittico, consentitemi il termine, di prodotti, perché sono, se uno va a fare una bella spesa, magari spendendo sui 400, 500 euro, sì, ma si porta a casa tutto, e sia chiaro, la stampante, ovviamente è una 4K, quindi raggiunge delle risoluzioni, spettacolari, nel dettaglio, delle cose che si possono stampare, guardate questo gatto, che ha stampato mia moglie, appunto con la Mars 3, guardate che spettacolo, sì, l'ha già primerato, è tutto quanto, però guardate la risoluzione, come è venuto, è spettacolare, e si conferma ancora una gattara, quindi sono macchine, che secondo me, se volete fare, un acquisto perfetto, per non avere rogne, per non rompervi le scatole, per tutto quanto, prendetele tutte e tre, non dovete andare nel bagno a lavare, lasciate tutto qui dentro col prodotto, quindi non dovete ogni volta andare a riempire il lavandino, metterci il coso, il tappo, una secca, un'altra, e l'altra parte, la cure machine invece, vi fa direttamente il trattamento al raggio ultravioletti, quindi se le dovete prendere, prendetelo insieme, la Mars 3 è veloce, più delle altre, di stampa, quindi ha un vidico di mezzate i tempi, ma quasi, sicuramente una dover abbondantemente, però lavorate sempre a velocità ridotte, perché meno c'è la velocità, più alta è il dettaglio, lo sapete, questo è un classico, è silenziosa da morire, non si sente niente, ci puoi stare accanto e dormirci, questa veramente più di tutte le altre, e a livello di odori, non c'è come vedete la guarnizione qui intorno, però chiude bene, chiude a livello ermetico, quindi comunque anche abbastanza tenuta stagna, non sembra che esca niente, e a livello di odori, magari se proprio ti avvicini, la guardi così da vicino, che mai farebbe nessuno, qualcosa puoi sentire, ma quello non dipende dalla macchina, dipende sempre dal tipo di resina, perché ad esempio resine washable, che notoriamente puzzano da morire, quello lo sentite anche dal mezzo della strada, non ci si può fare niente, resine normali, come quella che usiamo sempre noi, che è resina loro dell'elego, invece non fa nessun tipo di odore, ne puzza, insomma non c'è niente disgradevole, la potete tenere, tranquillamente l'ultima volta si è fatta stampa qui, io sulla poltrona lì a un metro e mezzo, che leggevo un coso, e lì dietro mia moglie al computer, quindi ci potete lavorare tranquillamente, cosa importante, guanti, mascherine, quando andate a toccare la resina, perché comunque è cancerosina, potrebbe fare allergia alla pelle, ma soprattutto in una zona areata, non fate come noi a vecchi tempi, dentro un bunker di soppalco, senza un filo d'aria, e allora lì si potrebbe diventare pericolosa, finestra aperta, e vai col liscio, dentro la chiavetta, ci trovate C2Box Pro, con un anno di abbonamento, non so se rendo l'idea, che costa all'anno 169 dollari, C2Box ragazzi è gratuito, gratuito, però comprandola ci avete, praticamente 169 dollari in più di roba, perché c'è l'abbonamento annuale di C2Box Pro, che vi permette di fare dei lavori, che con quello normale non potete fare, il più importante di tutti, però qui poi apro una piccola parentesi, l'autosupport, quindi finalmente funziona molto meglio, dell'autosupport normale, di C2Box versione gratuita, però andate sempre a mettere mano voi, perché in certi punti non ce li metterà mai, perché è impossibile, ma anche fra 10 anni, mettere tutti quanti i supporti possibili, immaginabili, quindi l'autosupport è buonissimo, di C2Box Pro, voto 9,5 su 10, però andate sempre a fare un ritocco finale, per vedere voi in prima persona, se manca qualcosa da qualche parte, prima di fare un errore. Poi fa tutto quello che faceva Photon File Validator, quello che usavate dopo C2Box, o comunque programmi di slicer, che vi andava a trovare tutte quante le isole, o ad esempio i problemi nella figura, a volte mancava un pixel, mancava qualcosa, e lui ve lo andava a identificare tutti quanti, per farvi vedere dove c'era un problema, soprattutto dove avrebbe dato un problema alla stampa. Questo C2Box Pro lo fa automaticamente da soli, quindi l'altro programma lo potete tranquillamente disinstallare, e rimuovere. Comunque, ci avete tutto in uno, ed è una cosa in più che vi danno, insomma, poi uno, pensa, magari ciò da spendere 130, 140 euro per l'abbonamento annuale, invece già ce l'ho con questa, fate voi. Quindi, è una macchina che vale assolutamente oro, molto meglio della Mars 2 Pro, grazie al cavolo, e il modello successivo. Non vedo l'ora di vedere la Mars 3, in versione Pro, che cosa avrà, e soprattutto, se dovete prendere qualcosa, prendetelo tutto insieme, con la Wash, e la Cure Machine. Vi lascio il primo link in descrizione, ovviamente dove andare a comprare, direttamente dal sito dell'Elego, e vi ricordo che è stata annunciata, e dovrebbe uscire entro fine anno, la Jupiter, che è l'evoluzione della Saturn, ed è una stampante 3D in 6K, non in 4K, in 6K, con il piano di lavoro di una stampante FDM, si arriva addirittura in altezza, a 30 cm, cioè la nostra praticamente Artillery Hornet, arriva a 25 cm, quindi il prossimo modello, di stampante LCD, arriverà a 30 di altezza, e dovrebbe essere, se non erro, di spessore, ovviamente il piano di lavoro, dovrebbe essere 26, per 15, 15 o 16, qualcosa del genere, e 30 in altezza, cioè, pauroso, ci tirate fuori una sedia, un tavolino, frappolino diviso un pezzo, e fatta in resina, bellissimo, e spero di riuscirvela a portare sul canale, ma comunque, a breve, sto aspettando ovviamente che mi mandino un po' di materiale promozionale, vi ci farò un video anteprima, perché non è ancora uscita la macchina, manco per la stampa, quindi vi ci farò un video anteprima, io ringrazio ancora una volta, Elego, per averci offerto tutti questi prodotti, è un onore disumano collaborare con voi, e ragazzi, cercate facilità di stampa, user friendly, stampanti durature, e prezzi, veramente concorrenti, al massimo livello, fidatevi, comprate da Elego, che per me, a livello di stampanti in resina, sono i migliori sul mercato, vi sfido a trovarne di meglio.